Gino D'Adabbo E' una sensazione davvero bellissima, dopo aver inseguito per tante volte il primo posto assoluto e averne conseguito solo secondi e terzi posti, finalmente ci sono riuscito, dopo tanti sacrifici finalmente un primo posto assoluto sono riuscito ad ottenerlo. Dicevamo hai ottenuto questo risultato qui a Rutigliano, quanto è stato bello farlo davanti a parenti ed amici. E' stato bellissimo, avere parenti e amici sul campo gara è stata una marcia in più. Alla vigilia la gara si presentava come una delle più impegnative del circuito, oltre ad essere chiaramente abbastanza decisiva in quanto ultima, ora a gara svolta io ti chiedo Gino, come si è rivelato il percorso e quindi come si è rivelata poi la gara? Qui vanno i miei complimenti alla squadra organizzatrice dell'evento. E' stato un percorso davvero molto molto bello e divertente. Il percorso aveva dei tratti molto tecnici, con svariati sali e scendi e un sacco di curve e con molte ripartenze. Risultato prestigioso, come abbiamo più volte detto, in un palcoscenico davvero ambito per la disciplina. Inevitabilmente mi viene da pensare avrai delle persone a cui dedicare questo successo. Questa vittoria la dedico alla mia famiglia, a mia moglie e a questa nuova società che sta nascendo. Non sarà sfuggita la notizia circolata sui social riguardante la nascita di una nuova società, la SD Salinsella, la società di cui tu Gino appunto sei presidente. Cosa sai dirci in più in merito a questo nuovo progetto sportivo qui a Rutigliano? Con il contributo di Gianni Porticelli abbiamo messo su questa nuova iniziativa, questa SD a Rutigliano. Lo scopo è quello di far avvicinare più ragazzi possibili a questa bellissima disciplina. Grazie.